La Young Band, orchestra giovanile dell'Istituto Comprensivo Razziano D'Acchiusi, nasce nel 2006 da un'idea dell'allora dirigente dell'Istituto Rita Albani, idea che da subito fu accolta con entusiasmo e seguita dal professor Marco Zullo. La forza del progetto sta nella grande energia tra scuola e altre istituzioni della cittadina, Banca Valdichiana, Comune e altre associazioni. L'orchestra ha vinto nel 2011 un primo premio assoluto con il punteggio di 100 su 100 al sesto concorso nazionale di musica d'insieme di Campobasso. Nel 2012 il primo premio assoluto con un punteggio di 100 su 100 al maggio di musica di Catania con una menzione speciale la medaglia adezionato coniata dalla Zecca di Stato. E sempre nel 2012 il primo premio al concorso musicale nazionale nella città di Scandicci. Nel 2013 hanno vinto il primo premio al concorso nazionale dell'Adriatico a Loreto e nel 2014 il primo premio a minori a Malfi con la menzione speciale quale migliore direzione d'orchestra. La Young Band ha partecipato e partecipa tuttora a rassegne e concerti. Attualmente è diretta dai professori Gianni Spoletini, Andrea Moschettini, Francesca Menchini, Emiliano Leonardi e Marco Zullo. La Young Band ha partecipa tuttora a rassegne e concerti. La Young Band ha partecipa tuttora a rassegne e concerti.